A 30 anni dai successi giovanili nel cinema, Raffaella Carrà torna a recitare in un film tv diretto da Sergio Martino. Salve ragazze, buongiorno. Ciao. Io quello lì, un giorno o l'altro lo appiccico al muro. Si tratta di una miniserie di quattro puntate tutta imperniata sul personaggio di Nicoletta, una rampante giornalista televisiva costretta a dividersi tra la carriera e i problemi familiari. Nicoletta è una giornalista sicuramente di attacco, è molto forte, è molto coraggiosa, non è una star televisiva, attenzione, non è ricchissima, però è una donna che al proprio lavoro dedica non solamente la sua professionalità ma soprattutto la sua passione, insomma mi assomiglia un po'. Emancipata sul lavoro, schiavizzata in casa, il doppio ruolo pesa enormemente sulla giornalista alle prese con tre nipotini tempesta di cui per caso si ritrova a fare la mamma. Senta, lei si sta sbagliando, io sono una giornalista, mi ha capito, una giornalista, sono qui per lavoro. La serie di Mamma per caso è stata girata in presa diretta negli studi di Cinecittà e in Spagna, un cast composto tra gli altri da Jean Sorel, Ray Lovelock, Leo Gullotta e Simona Marchini. Questa sì che è una bella notizia. Appuntamento dunque tra poco con Raffaella, grazie per averci seguito.